inaugurate nella mattinata giovedì 16 dicembre presso liceo artistico felice faccio laura rinominata mastro geppetto e la nuova stampante 3d i ragazzi con disabilità quello scorso anno scolastico durante la pandemia si erano trovati a essere gli unici studenti insieme ai loro insegnanti presenti a scuola avevano riscontrato il grosso problema di non avere uno spazio adatto alla didattica distanza a volte dovevano utilizzare laboratori di informatica occupati da altre classi o chiedere tecnici informatici dei notebook in possesso della scuola il tutto con notevole dispendio di tempo e energie di fronte a questa situazione la loro referente per i sostegni alla professoressa gangale l'ex coordinatrice dell'indirizzo di design arte della ceramica la professoressa baruzzi l'allora direttore dei servizi generali amministrativi il dottor sgrò e alcuni docenti di sostegno avevano deciso di cooperare per ristrutturare un'aula della scuola fino all'ora di vita d'archivio alcuni docenti hanno effettuato nelle aule le riparazioni necessarie riducendo così i tempi per il ripristino degli ambienti è necessario per acquistare i computer la professoressa baruzzi va messa a disposizione una parte delle donazioni dei lions e dei rotary originariamente destinata all'acquisto della stampante 3d grazie a questi contributi oggi la scuola possiede un'aula rinominata massogeppetto che si configura come un ambiente moderno e accogliente decorato con i lavori provenienti dall'indirizzo di studio che il risulto offre e in cui i ragazzi diversamente abili possono svolgere comodamente la didattica a distanza ma anche attrattività laboratoriali specifiche la scuola non ha però dovuto rinunciare la stampante grazie a una seconda donazione effettuata da due gruppi canavesani grazie ad essa oggi l'indirizzo di design art della ceramica possiede una stampante 3d che consente agli studenti di realizzare le opere d'arte esposte con orgoglio nell'istituto e non solo grazie a tutti